Non riesce a rialzarsi il nuovo basket aquilano che cede in casa 53 a 62 con Ferentino. Sul parquet del Palangeli va in scena una partita dalle basse percentuali al tiro. Nel primo quarto le due squadre segnano un totale di 25 punti, con gli ospiti che chiudono i 10 effettivi di gioco a più 1 sul 12 a 13. Ferentino che nel secondo periodo aggiusta un po' la mira mentre il nuovo basket aquilano continua a litigare con il canestro. Per i padroni di casa 4 su 12 da 2 e solo 1 su 7 da 3. Ferentino ne approfitta e all'intervallo lungo è avanti di 4 sul 26 a 30. Al rientro in campo il nuovo basket aquilano tiene una buona intensità difensiva ma continua a fare molta fatica a segnare. Tuttavia al trentesimo le sorti della partita sono ancora in bilico, con Ferentino avanti di sole tre lunghezze sul 38 a 41. Laziali che però all'inizio dell'ultimo quarto strappano in maniera vigorosa con un parziale di 0 a 8 e si portano a più 11 sul 38 a 49. Il nuovo basket aquilano non riesce a risalire oltre il meno 7 sul 49 a 56, poi Ferentino è brava a gestire al meglio gli ultimi possessi portando in porto la vittoria. 53 a 62 il finale con il nuovo basket aquilano che dovrà metabolizzare in fretta il KO. Mercoledì infatti si torna in campo e di bianco-blu saranno di scena palestrina.